Grazie a tutti. Per noi è importante tutto che guadagniamo, anche quella che guadagno io da qua, perché riusciamo a vivere, perché siamo in tanti, abbiamo da pagare l'affitto, le bollette e tutte quelle cose là. Che cosa sogni per il tuo futuro? Ah, voglio rimanere in Italia per fare un po' di soldi e poi se riesco voglio andare a casa mia per fare qualcosa là, un negozio, qualcosa, perché avevo anche prima un negozio. E poi sono venuta qua e ho trovato questo lavoro, perché con il nostro negozio non c'era niente, perché sono aperte quelle lì grandi e questi piccoli, perché era uno piccolo, sono chiuse. Quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato nel venire a lavorare qui in Italia? Mi guardavano male quando sentiva che sei rumeno, perché hai sentito quante cose hanno fatto i rumeni e quando ti sentiva sei rumeno ti guardava male. Ma qua non ho trovato nessuna difficoltà quando sono venuta alla Patrizia o in un'altra azienda dove ho lavorato a signor Ettore Navarra, non ho trovato nessuna difficoltà. Ti hanno costretta a mangiare il loro aglio quando sei venuta a lavorare qui, Ettore e la Patrizia? No, ma ho mangiato, ho mangiato, non mi hanno costretto ma ho mangiato. E ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto e è buono. Un'altra testimonial qua, eh Patrizia? Grazie mille Cristina, sei stata molto gentile e ti lasciamo tornare al tuo lavoro, grazie. Grazie a voi, buongiorno.